Cercare poi di capire chi sarà in caldo di uscire dal Bruco, Pino Rabilizzi, ex attesa, accompagnare il suo bubito, Alierno Barco, ecco qui, Gino Agliallone, Alierno Barco, Giancardo Scara, Salve, Morone, Antonio Apare, Angelo Raffaele, Capone, a condurre le fasi di gara maschile. Il primo giro con un passaggio di poco superiore agli 11 minuti, quindi previsione finale intorno ai 33 minuti e già in lottanza vediamo la prima donna con i colori dell'atleta marcialista che ci sta a manierci a guidare il gruppo mentre c'è il passaggio di Carmine Marro, lui che muore con i colori della turistica Valle Cautina, lui è bicicletta, e con il passaggio della prima donna, forza Nicola, dai Carmine, dai forza, è tornato anche a legare Carmine, che hanno un credit dopo tantissimo tempo, forza ragazzi, il primo giro, è che ci siamo, forza Elina di Miliano insieme a Giancardo Nicola, al passaggio, al primo giro, eccolo qua, è il giovanissimo atleta, lui che previsione soprattutto la pista, con i colori della libertas, a valore atletica, a bene, con l'uva di un cielo, ma ricordiamo che lui è un giovanissimo, quindi queste carie per lui servono per allenamento, lui si allena molto in pista, è una promessa proprio dell'atletica, leggera, regionale, il passaggio di Luigi in Catalano, con Emilio e Fabio, i colori, e con l'istica Valle Cautina, mentre c'è il passaggio della seconda donna, con gli stessi colori, e adesso si è andato, su e dopo, ancora allontate, per dare le bellissime posizioni, giù si lavora, nell'atletica, a bene, ora, forza ragazzi, è Patrizio, e ancora il team di Tascondolina, forza Roberto, ancora Camuno Lannes, ma sono tanti gli atleti da rilevare al primo passaggio, che vengono qua, con il numero 100, forza Ciro, vai grande, vai Raffaele, forza, Ciro, con l'uncello, al passaggio, dal polizio, il nostro Sergio Lanzini, la notte di Gommaso, con i colori della polizia Valle Cautina, il fine c'è, con l'età del pericolo, mentre c'è anche Raffaele Donagni, forza Pasquale, e ancora la macerda, l'esaltatore, i colori della polizia Valle Cautina, eccoli qua, forza Caggian Piero, io parlo a Genni, sui marciapiede, per favore, per favore, per non ostacolare il lavoro, naturalmente, anche piena, per favore, vale Francesco, forza, ne accogleremo, comisti, alto, sangue, con il nostro Cesare, vale Ciorgio, forza, grande, il nostro Giorgio Sposimo, e ancora con il febbraio 40, Luigi Tostano, e ancora 17 con i colori, e ancora con la Marlon, forza Carlo, forza Gigi, e ancora, Rob Runders con Alessandro Pappa, ancora con le Paulina, forza Torino, ehi, ragazzi, il capo uno c'è, forza Pollo, per questo attore lo vediamo, per Agostino, Agostino Cepo, con i colori, per l'amadori, per l'amadori, per l'amore, 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 forza, ancora la femmina, forza Barbara, il rinitro alle gare, con i colori del tanto sangue, per l'amore, per l'amore, grande vittorio, il nostro presidente, l'amore, Vittorio Mazzarino, l'atletica Hermes, allora ragazzi, dai, primo giro, ancora i colori, con il mano a mano, dai, a noi, forza Anna, Anna Ucci, con il donore, un donore buonissimo, bene evento, bene bene, la potistica, la valentina, la rossa erena, e ancora, il progetto di sana corsa, forza Mario, Mario Conta, Napoli, l'Ottro Marathon, per il nostro Giovanni, Esposito, primo giro per gli attraveri, poco più di tre chilometri, 300 mesi, forza Annunzio, che il team di Comiziano, è ancora, la potistica, Valle Caudina, Reangelo, grandissimo, il nostro veterano, grande Michele, il tigre, Agostino Cinvorda, voi, Morisano, voi, con il colore, che stanno a centri di cera, società pugliese, quando siamo giunti, a 16 minuti e 40 di gara, ecco qui, dopo un po' di pausa, il gruppone degli atleti, ancora, i colori, Astro 2000, forza Gianegola, Alecomaso, forza Alberto, Alecmasquale, grande, il passaggio anche di Francesco, Ragucci, è la scelta, il nostro prof, come con le sue estate, della sua infanzia, il nostro prof, e con il progetto della politica, il suo genocchio, è la scelta, Luca Alberto, e la porti in compagnia, anche Giovanni, vai ragazzi, buon salito, dai Michela, la nostra Michela, inglese, a Fenix, a Fenix, a Marcellino, con il passaggio, a Fenix, avviciniamo le Santis, ci avviciniamo il 18 minuti di gara, amici, vedete, con il disco, c'è la di Macaloni, vorremmo ad aprile, a Macaloni, differente ruoto, e ancora San Marcellino, con il passaggio, di Vincenzo, i colori di Lucenda, con il passaggio di Antonio, e ancora, bellissima, parte, Paulina, con il passaggio di Michele, forza amici, 18 minuti e 10, sono ritorno ai 22 minuti, ci sarà il secondo passaggio, per poi, diciamo, l'ultimo giro, capire chi sarà, il vincitore, e questo, proprio, politico, per risiccare, i 50 anni, della, prodotto, di Paulina, e l'onoranza, con i colori, Astro 2000, Giovanni De Luca, con i colori, Astro 2000, da Benevento, e lo stretto, lo scorso, tu e te, grande Giovanni, ecco qua, un po' di vuoto, ci sono ancora tre, che devono terminare, il primo giro, e, e, vedete, di noi, parte strada, diciamo, le enti di nuvidità, e, ancora, un paio di minuti, vedremo, nuovo, la macchina, agribista, che accompagna, gli atleti, e, speriamo che, mi saranno premiati, i 23 atleti, in assoluto, cascine e femminile, ovvero, il tuo sostegno, e poi, naturalmente, i primi, 20, le varie, categorie, mascaris, e le primi, e il live 5, sono genocchi, molto ricche, di preparazione, davvero un grande lavoro sforzo dallo staff e dal colloquio di Paolissi veramente grazie al scopo che andremo poi ad aiutare per ringraziarmi per il mio supporto grazie anche all'amministrazione comunale e grazie alla comunità di Paolissi che oggi ci ostica per questo evento turistico proprio per vestigiarli 50 anni e la prova ancora passaggi ora salve Alessandro per tutta detta al passaggio politica Paolissima proprio per mettere un po' di essere a te proprio del Paolissima il proprio a settembre il evento politico a Ponte Sardio che è stato proprio tanto politica la Paolissima mentre con i colori di San Giorgio del Stagno ecco in fase avvicinano sui tappei per il primo giro Polisti San Giorgio del Stagno il pastore Mauro sia la Ponte Sardio saranno anche voi con ieri del primo novembre a Viserna a Ponte Sardio e dopo il verso tempo si viene a votare non si è l'esco capito tanto è l'esco i colori del caputo ecco i qua forza primo passaggio per il nostro Pasquale e Canello tutti i due minuti in questo momento che ne manca poco poter vedere di nuovo il passaggio in parte strada e vediamo se il gruppo comando tra una decina di atleti si sarà allontato sicuramente ci sarà battaglia da 5 a 2 e tanto l'età quando riguarda la Raffa e venire il passaggio di Tirana con i colori e la polisportiva polis il nostro presidente è pronto a Francesco Riletti di fondo assolutamente il 19 novembre con la messa maratone internazionale della regna di casetta forza presidente e nel frattempo ecco in cui abbiamo parlato poc'anzi della scorta che accompagna che ha breve in testa ma un po' le mano ancora tutto lo vedete con il giro e il giro e il nostro portacolori a niente ho fatto quindi grande gara per voi ci sta combattendo ancora per voi la ritoria di mare all'ultimo giro ecco in qua i protagonisti il gira con il palco del palco il nostro allenio palco grande prestazione è il nostro di a niente e Pierino in ecco qua lui rappresenta i colori di termoli il nostro Piero Piaccio Migliori all'ultimo giro grande Piero lui che è stato il vincitore della scala del mondo Barbatis 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 Angeo Siamo venuti, quindi parliamo di una media di tre e cinciotto al pilonco, in questo primo giro ci sarà un aumento della Bolognao, la tempi rimarrà ancora su questo passo, e per il passaggio del professione Roberto Barbatis Barbatis Buongiorno 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 Grazie a tutti Barbatis Grazie a tutti Buongiorno da sempre Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gian Nicola Scrutto di Vida, forse Emilio, dai! Ultimo giro, dai ragazzi! Poco più di tre, tipo di lette, dai Emilio, forse Emilio, forse Emilio, si chiede la piano, mi forme, con i colori Air Force Sport, forse, post anso, con l'unico, all'ultimo giro! E ancora, la madre caudina, presente con i suoi colori, ecco qua, tra Santoro e Santanino, l'ultimo giro, dai! Il giovanissimo atleta, Luca, dai, forse! Ultimo giro! L'atleta di casa, giovanissimo atleta, che a buonissimo tempo ha deciso di parlare, l'atleta che c'era! con i colori, la riberta, Sanaloi, la frega, il terreno, schienatori e Emilio in pese! Grande Luca! E con la nata abbiamo anche Eresa, sperivato, con la posizione assoluta, sempre contro i colori della terra, la fascia di sé, e l'interattura che volessi a Tosaglio, al passaggio! Forza ragazzi! Travario, Naveo, Gigi Tadana, insieme a Pederino! E il primo cangio, ancora Tavulman, la forza in gesta e la resa! E' ancora vicina alla nostra Shunzi, quindi è ancora tutto da decidere! Il polo, benvenire! Forza! E' ancora coperto, il serato Maurizio! Ancora i colori, il firma di Comiziano! Tra i quando! Ganno, quando! Oggi è il caso di Senato, si è il serato di Comiziano! Comizistica, aggianese! Siamo serati, però, all'inizio di settembre, è ancora un momento buonissimo! Oggi siamo forza, con il salto di Comiziano! E' il battaglione! 28 minuti di gara, quindi poco più di 5 minuti! Ancora, l'anurino, 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 più di l'anurino, con il polizio, l'anurino, gli vikdimensionali, ti amana, un maestro, ti amano, facendo una grande, una grande gara! poi pure si chiude di scatoso, pure sempre, pure sempre, ancora in polizia, ancora la polizia continua con la sensazione di te, ecco il vero di vita, a me le coragge, 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 a me, sto giocando sempre, purificano le calciate, in polizia scelta, con le nostre sottotitoli e tiri, è ancora La voce, Fischi Rie share, la patronistica Valle Caolina, Trezzi, Marberi... E il suo d'odio sangue il luce, il grande pezzo al topo, lo fa sovino appunto l'angresso... andiamo all' Buongiorno ragazzi, dai, come vanno a mano con il Polis di Arcosangelo insieme ai Rodaness, Anzora Polis di Arcosangelo. Allora, il ultimo giro, Mancestria primo lavoro, Raffaele Chiesa, era qui. E' proprio qua, oggi Anzora, prima delle strane di Paoli, il nostro Edo Frusciante, che rappresenta il motore di Aspi, quindi è davvero importante la sua partecipazione. Lavoro Raffaele, con il nostro Salvatore al passaggio. E ancora, ecco qua il nostro Mario, dai, Luigi in Tostano, scusa Gigi, con Salvatore Giorgio Esposito al passaggio. Grande Gigi, dai, ancora Polis di Davare Paolina, con Antonio, e Antonio, dai, dai, giudiamo, forza Gigi. Mario, ancora Russo, Luigi Esposito, e alcuna partecipazione, la politica, il nostro Andro. A noi, di Succher, con Anders, il nostro Salvatore, il nostro Salvatore, il nostro Salvatore, Carlo, Michele, la nostra Barbara, forza. A noi, a noi, a noi, a noi, a noi, a noi, a noi. A noi, 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 a noi Oltre a Rossino Oltre a Rossino Oltre a Mario Poi la passaggio di Tate Le mani alle mani alle mani Le mani alle mani alle mani alle mani Le mani alle mani alle mani alle mani Annoci E' una troppa prima Ancora qualche merito per farlo Portare da Fede Il penultimo ricavamento E poi ci sarà L'ultimo giro Mosana E' una forza E ci siamo Ultimo giro Il colore della potestica Valle Carolina Ancora il colore Il film Da Bruno a Ness Ma che ci siamo Uno giro per anno Amor è felissima E si seguono Ma di passaggi Ragazzi è un po' giro Forza Angelo Forza Amici E' un po' giro E' un po' di Agostino Cipolla Il nostro vive, atletica, Saracena e Lucera, dove è molto sano. I colori di Poliziano per l'ultimo giro. Ed ecco qua, un altro atleta, la piccoletta locale per fare il ritardo. La brisa con il 104, il passaggio, il gesso, un artico, un taggetto a luci. E manca moltissimo per accogliere il vincitore, ma ci siamo a 30, 4 e 10. Ed ecco qua, il tornatore, ed ecco qua, allo sprint con Marco Vecano. Ed ecco qua, Gino Iannone con i colori di Marco Vecano. Due che è lui, Gino Iannone, Marco Vecano. E il terzo, assoluto, facendo una gioca. E' una grande prestazione di Anilio Falco, della politica Valle Paulina. Davvero grande prestazione per Anilio. Terzo, assoluto, dietro due grandissimi atleti. di Anilio Falco, di Anilio Falco, di Anilio Falco, di Anilio Falco. Buongiorno Sanita, forse con i colori di intervento della posizia a testa, sopra il Darmuano e ancora Anna Viglia di testa. Grande Viglia. E in taglia il trovato in Africa Andorana, Antonio Abad. E Giancarlo Scalazzani a tagliare il trovato e per il censo. All'ultimo giro, Angelo Raffaele, con i colori del lavatore, il buonissimo ben evento. Lui è tre del vino, trentasei e ventiquattro. Poco più di tre, trentasei e tronco per Angelo. A pregatori, a pregare all'orso, con una mera di 6,35 al ginometro, il colore di mattaloni. Ancora Tuccella, protagonista con Antonio Cinelli. E' un ottimo terzo seguito per la prima volta che faccia la musica dell'economia, ancora passaggi per Ferdinando Possemato. E' un ottimo terzo seguito per la prima volta che faccia la musica dell'economia, ancora passaggi per la prima volta che faccia la musica dell'economia. E' un ottimo terzo seguito per la prima volta che faccia la musica dell'economia. E' un ottimo terzo seguito per la prima volta che faccia la musica dell'economia, ancora passaggi per la prima volta che faccia la musica dell'economia. con dei colori è un po' sport con il quadro di Mataloni velocissimo anche con dei colori di Mataloni Gian Nicola Izzo con il quadro di Mataloni ce l'abbiamo fatta Tragliare da Mataloni tantissimo Carmine bravo dai dai ci siamo è finita il nostro Emilio canale con i colori di Mataloni e ancora politica Valle Caudina eccola qua ce l'abbiamo fatta il nostro Antonio Sampanino sotto i 40 minuti Antonio 39,50 quindi abbiamo un metro di 3,59 al chilometro 5,59 130 e è il primo di Tocchi di Tocchi di Tocchi di Tocchi di Maudisi e con i testi di Tocchi di 50 anni e gli atleti che hanno già tagliato in tra l'altro possono consegnarci quello piano per reggare la propria linea, calcolata, ancora più, ancora più per Andes, i libri in pesa, il taglio il cavallo con 40 e 45 e c'è il nostro Luca che sta per tagliare il cavallo preceduto in movimento grande Luca, bravissimo, giovanissimo atleta, grande Luca Lino Ciello, bravissimo Luca e ancora con il che altro sanno con la moto stretta ed è Ciusi, dalla Cuginassina, seconda posizione, assoluta, bravo Deverino bravo Alberto e Teresa Stellano per la terza posizione, in Censu Sabattino Anche completato il proprio pettine, andiamo in pettine, c'è l'assoluto, anche battaglia per la seconda terza posizione, resta stendato, giusto in aula. E' l'ultimo giro, forza, è qui, dai, Alessandro di Donatella, dai. E' l'afflizio, l'afflizio domano, con il bologno poliziano, e ancora, polistica, Mario e anche il bologno poliziano, bravo, 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 bravo. e dopo una lunghissima pausa di San Giorgio del Stagno 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 il campiere Sapatino Ramianna Anna Ucci con i colori che ha fatto il turismo prevento Gaena, forza Gaena Raiando a tutti gli atleti che sono già arrivati con un segnale cipo con il tuo fianco all'interno del giro e con il cene di Tafogana Gaungo con i strava di Pafogana e state a far rimanere anche il nostro Pinchere mentre il nostro pezzo Parpati dall'unimo giro Siamo vicina i 50 minuti di gara grande legge, grandissimo sotto di 5 km, grande legge, bravissimo arrivata che ci siamo in finita, grandissimo, eccolo qua sul tavolo dominale di quello di Dittimaiano, Francesco Artucci, grande facci, grazie a tutti i secoli Ancora, Capurna, adesso, ancora qui, sul 3 a 4 di Paulisi, che oggi ci ospita per 25 anni in lavoro, grande Angelo, bravissimo, Angelo Busco Abostino, Gicicela, il nostro 3, 4, 5, 3 minuti Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti!